Anche quest'anno sono voluto essere qui a Via D'Amelio per ricordare la strage mafiosa del 19 luglio del 1992, barbaramente ucciso tra gli altri, procuratore antimafia Paolo Borsellino, da qui la cittadina italiana, da magistrato, da sindaco, da amico di Salvatore Borsellino, nel ricordo di vita Borsellino, ma soprattutto perché deve essere forte ancora la ribellione affinché ci sia la verità su questa strage, che è una strage di Stato, una strage consumata in un momento storico in cui alcuni servitori dello Stato cercavano la verità su una strage di Capaci e altri trattavano con cosa non si eravano. Dobbiamo dire grazie a quei magistrati onesti, autonomi e coraggiosi che ancora ricercano la verità su fatti gravissimi che hanno inquinato la vita democratica del nostro Paese, ma siamo qui anche perché il sistema mafioso è ancora troppo forte dentro le istituzioni, un sistema fatto di corruzione, collusioni e commistioni, come dimostrano anche le recenti vicende di un cancro istituzionale di rapporti tra magistrati, politici e apparati dello Stato. Sono qui perché la mafia, i corrupti che devono andare via dallo Stato, a calci e non le persone per bene. Per sempre qui, l'agenda rossa con le agende rosse.